Buongiornissimo ragazzole, allora rieccomi ritornata con un nuovo video Oggi faccio una specie di aggiornamento What's on my iPhone barra Vi faccio vedere un pochettino come ho inserito i widgets Widgets, penso si chiamino Con il nuovo aggiornamento di iOS 14 E come modello mi ricorda tantissimo quando avevo Il Samsung in cui potevo modificare le schermate ecc Invece con iPhone è sempre stato tutto molto statico con i quadratini e le varie app e basta Ho deciso di condividerla con voi perché in realtà non è così immediato Anche io ci ho messo un po' nonostante abbia visto un po' di tutorial Li riporto direttamente al mio schermo E niente insomma, ci vediamo alla fine del video Allora eccoci qua con il video Io spero che si senta e che si veda per bene il tutto Come potete vedere questo è il nuovo aggiornamento di iOS Come si dice, di iOS 14 Vi faccio vedere le schermate che ho Dove praticamente c'è la possibilità di mettere questi widget Niente insomma, io ho voluto mettere qua appunto in prima pagina L'orologio, bello in grande Il contachilometro, il contapassi, contachilometro, quello che volete Ho messo anche una foto mia di Marco Che in realtà è anche la foto dello sfondo del cellulare Una volta che spegnete Cioè il blocco schermo E nella seconda pagina ho messo appunto il calendario Con gli eventi qua messi a sinistra E poi i altri due insomma Altre due scritte Una, questa qua gialla E quella lì di Cizaz E questa invece in realtà l'ho trovata su Pinterest Mi sembrava carina E soprattutto un po' per questo periodo E poi praticamente la novità di iOS È che se voi, aspettate Scorrete ancora C'è tutta la libreria app Dove ci sono tutte le vostre applicazioni Tutte, 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 tutte Qua ci sono in ordine Alfabetico Se cliccate qua in mezzo Insomma È bellissima sta cosa Perché onestamente ve le raggruppa già Io ho voluto tenerle alcune Vedete Adesso poi ve le faccio vedere per bene Comunque ho voluto tenerne alcune Ancora sulle due pagine Comunque vi faccio vedere Più o meno come si crea questa pagina qua E in realtà devo creare Vediamo se riesco a farlo Ok Vi devo mostrare l'applicazione Che ti permette praticamente Di inserire queste cose qua Fate widget smith Vedete io ho Tutte queste app già Questi app Questi widget Scusatemi Mi confondo Però Ne creiamo una insieme Così vi faccio vedere Voi cliccate Add medium Per esempio Se volete mettere l'orologio Se lo volete fare Questo è medium Poi c'è l'ultimo che è large E questo è piccolino Vi faccio vedere come si fa Come si aggiunge il medium Cliccate appunto su Add medium widget E poi cliccate dentro Questo qui di default Sarà sempre così Innanzitutto Vi conviene Modificare il nome Scriviamo tipo Nero Nero rosso Dovete scrivere un nome Perché dopo vi dico Come mai vi servirà Lo salvate Vabbè Cliccate di nuovo Sopra E vedete che qua Ci sono tutte le varie opzioni Date Giorno Orologio Eccetera Eccetera Magari volete scrivere Cioè volete avere questa cosa qua In grande Tuesday September Bla 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 Potete fare così Oppure Oppure una cosa che potete fare Che è anche questa molto figa Perché alcune opzioni Vedete Sono a pagamento Secondo me Tipo la luna Le fasi lunari Sono carine Queste da mettere Però vabbè Mettiamo caso Che volete mettere Appunto Il giorno E la data Della settimana Insomma La data del mese Potete scegliere il font Io di solito Scelgo New York Ma potete scegliere Quello che volete Cambiamolo Facciamo questo E poi scegliete Il colore Della scrittura Per esempio Facciamolo così Rosino E lo sfondo Noi lo facciamo Rosa chiaro Ok Tornate indietro E fate salva Ok Nel momento in cui fate Questa procedura qua È uguale La stessa cosa Di tutte queste Del Anche la misura Più piccolina Ok Vi faccio vedere Solamente Questa qua piccola Come si mette La foto Allora Potete cliccare Foto Oppure Foto in album Significa che Vi fate un album Vostro Ok Sulla galleria Del telefono E poi Guardate E poi vedete Cioè Vedrete che praticamente Le foto Scorreranno Però io faccio Foto normale Seleziona foto Scegli foto E per esempio Mettiamo questa qui Che è quella che ho trovato Di recente E mettiamo Volto Così almeno mi ricordo Insomma Quello Quello che Quello che Salvo Torniamo indietro E andiamo Fate finta che questa sia la vostra schermata Nuova Premete E fate Modifica schermata home Cliccate qua in alto Aggiungi Il più Scendete E Appunto Cliccate Widget Smith Small Widget O Medium Facciamo prima che Che ne so Metti il Medium Vedete che appare questo Però lo potete modificare da qua Lo cliccate Fate Modifica widget Cliccate nero rosso Ma vedete che ce ne sono altri Questi qui sono gli altri Che avevo già fatto io Ok Poi Potete Ricliccare di nuovo sull'app Fate Modifica schermata home Fate di nuovo Aggiungi Scendete A questo punto Mettiamo Quello small E vedrete che Apparirà Potete modificarlo Come vi pare E piace Metterlo qua Spostarlo anche Direttamente Io adesso evito di spostarlo Perché se no Mi si Mi si Sbarella Tutto quanto Però Questa Cioè questo è praticamente Il modo più semplice Per Per appunto Creare questi widget Secondo me è molto carino Perché Comunque Sia a parte che Avete una visione Dell'orologio Molto più di impatto Anche quando avete il cellulare E' così E' aperto Insomma E poi per esempio Il contapassi Per me è molto utile Perché così non devo Andare a guardare dentro L'applicazione Eccetera Eccetera Questo me lo monitora Già lui Così Se volete rimuoverlo Fate così Ok Ok Quindi questa È la mia schermata Io ho voluto tenere Tutte queste applicazioni qua Perché sono quelle che io Utilizzo maggiormente Sotto C'è sempre appunto Whatsapp Messaggi E Safari Qua ho l'app store Tg.com24 Where are you Che è appunto L'app di Areu Il 112 Evito di cliccarci sopra Perché poi Vi dice dove sono posizionata Cioè dove abito Mi sembra il caso Di divulgare Però è molto utile Soprattutto in caso Di emergenza Rapine Eccetera 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 Se magari non potete Comunicare Parlare Proprio Con la voce Eccetera Potete anche proprio Mandare un segnale A loro E soprattutto Questo è utile Tipo per rapine In generale Però anche ovviamente Per l'emergenza Tutto qua Questa cartella Cose in cui in realtà Ho raggruppato Alcune robe Che io utilizzo maggiormente Che in realtà Sono proprio Random Come potete notare Ok Audible E' quell'applicazione La che vi avevo già detto Che vi permette Di Cioè E' questa applicazione Che vi legge i libri Per voi E voi li ascoltate Fondamentalmente Invece questa applicazione Qua traduci E' un'applicazione nuova Che con appunto L'aggiornamento del telefono Mi è apparsa E qui io ho cancellato Il mio vecchio traduttore E per il resto Appunto Vabbè Widget Smith Che è quello che vi ho fatto Vedere fino ad adesso E' più o meno Lo stesso Ho messo qua Netflix YouTube Google Maps E poi qua dentro Ho messo Google Photo Un'applicazione Da qua Cliccate Rimuovi app E poi qua c'è scritto Elimina app Quindi ve l'ha eliminato Talmente Oppure sposta app Nella libreria app Se voi cliccate Sposta nella libreria app Adesso non lo faccio Qua Nella schermata Non apparirà più Però ve l'ha ritrovata Sempre ovviamente Qua Quindi insomma Questo è quello È quello che Queste sono state un po' Le novità Di IOS Principalmente Un'altra cosa Che ci tenevo a farvi vedere Adesso ve la faccio vedere Un attimo Vediamo se riesco a farlo Allora Ve la faccio vedere Da qua Ok C'è la possibilità Nella vostra emoji Adesso di mettere La mascherina Questa è una cosa Che ho notato Di diverso Insomma Questa mi era anche Stata detta Ed è super carina Poi potete modificarla Da qua Fate modifica E se non mi sbaglio Appunto Nei copricapi Qua Potete mettervi La mascherina Come vi pare Piace Del vostro colore Eccetera 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 E come potete vedere Io qua Non ho nelle schermate Instagram Ma perché a me Basta cliccare qua E diciamo che Le icone Quelle più grandi Sono quelle che voi Utilizzate maggiormente Perciò Andate qui Se avete piacere Questo qua È il mio profilo Insomma Potete seguirmi Però Tendenzialmente Non ho più La necessità Di avere tutte le app Cioè Davvero Ho ridotto tantissimo E poi in più Secondo me Più avanti andrò Più utilizzerò Di più Questa libreria app Perché è una questione Di abitudine Ma così almeno Metterò più widget Metterò magari Più foto Più frasi motivazionali Volendo potreste Mettere anche Le note del telefono Perché se voi Cliccate qua A sinistra Adesso c'è la possibilità Di mettere questi widget Che sono quelli vecchi Scusate Ho messo la calcolatrice Indicazioni stradali E sempre l'app Di Areu E niente Invece Queste qua Sono quelle nuove Per esempio Vabbè Qua Scorre così Che potete mettere Tutto quello che Vi pare E piace Poi Ci sono gli eventi Del vostro calendario Di Apple Però appunto Devo essere sincera Questa Spunta qua Che voi scorrete Da sinistra A destra È una cosa Che io non ho mai Utilizzato Però in realtà È molto utile Perché potete cercare Anche le cose da qua Io non l'ho mai fatto Però vabbè Quindi io spero Insomma Di avervi Cioè Detto qualcosa Di utile Per questi widget Qui Perché so Che mi avete fatto Tante domande Soprattutto su Instagram Dicendomi Eh però Io non riesco a metterle Nonostante abbia fatto L'aggiornamento nuovo Eccetera Sappiate che all'inizio Il telefono è uguale Siete voi Che una volta Scaricato l'aggiornamento Dovete andare Su App Store E andare a scaricarvi Widget Che è questa Applicazione qua Widget Perché Senza l'aggiornamento Widget Non ve lo scarica Assolutamente Potete anche cancellare Le varie Eh Cose che voi create Per esempio Quindi non è che Per forza Ve le dovete tenere tutte E E niente Insomma Quindi vi lascio Alla clip successiva Di conclusione del video Eccoci qua Alla fine del video Io spero tantissimo Che vi sia piaciuto E soprattutto Interessato Che insomma Sia stato utile Ecco Cercare anche di capire Un attimino E penso che Aver fatto anche Un tutorial in italiano Sia stato anche Abbastanza eco Perché più che altro Che su internet O comunque su youtube Adesso Ce ne sono tantissimi Ma in inglese E se vi è piaciuto Questo video Mi raccomando Lasciate un like Non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Se avete piacere e voglia E niente Noi ci rivediamo In un prossimo video Cheers In questo video Poi vi lascio Al video proprio Vero e proprio Ciao Ciao